Bentornati per l'ultima puntata delle tre video interviste sulle esperienze concrete nei percorsi di apprendistato duale. Questi video fanno parte del modulo come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers. In questo video parliamo del feedback, cioè del riscontro che si dà a persona, all'apprendista rispetto al lavoro svolto, questo in un percorso di apprendistà. Parleremo quindi con Marco nel ruolo di tutor di una piccola impresa artigiana e con Francesco, che saluto, nel ruolo di ex apprendista da poco, diciamo. Ringrazio entrambi, sia Marco che Francesco, per averci dato la disponibilità e passerei alla prima domanda, perché parliamo di feedback, di progettualità, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, quali sono, e rivolgo la domanda a Marco, le caratteristiche principali di un feedback, quindi di un riscontro efficace nel contesto di un apprendistato duale, dal punto di vista della vostra esperienza? Sì, diciamo che il riscontro è un momento in cui viene puntualizzato qualcosa sul lavoro dell'apprendista. Può essere un incoraggiamento a fare meglio o un momento in cui si racconta all'apprendista che ha fatto un buon lavoro e che è andato tutto bene, essenzialmente. Sicuramente la caratteristica di un buon feedback non è un momento di valutazione, è un momento in cui appena è stato fatto il lavoro o appena si vede il risultato di quel lavoro, viene dato appunto un risponto, quindi è tempestivo, è immediatamente legato al lavoro che sta facendo l'apprendista. Stai facendo un lavoro, viene fatto bene e immediatamente dici, ah, hai fatto un buon lavoro. Già quello personalmente per me è un feedback e non è scontato, non tutti lo fanno in azienda, non succede molto spesso che venga data importanza al lavoro per quanto piccolo che fanno tutti. Perciò sicuramente è tempestivo, soprattutto dal punto di vista di un tutor in realtà. Il nostro lavoro è anche questo, è anche dire alle persone come stanno lavorando e farle capire quando stanno lavorando bene e quando non stanno lavorando male. Ricondurre il feedback al momento esatto in cui il lavoro viene, in cui io vedo che il lavoro che sta facendo è fondamentale. Deve essere specifico, deve essere ricondotto al lavoro che è stato fatto o ai comportamenti della persona. Non mi piace andare da un apprendista e non mi piaceva andare da Francesco, non l'ho mai fatto di dire, ah, in questo periodo stai lavorando bene o in questo periodo non stai lavorando tanto bene, oppure no, cerco sempre di ricondurlo al lavoro che è stato fatto o a dei comportamenti specifici. Quando hai fatto quel lavoro sei riuscito a farlo nei tempi giusti, però era meglio stare attenti a questo dettaglio specifico. Cercare quindi sempre di ricondurlo a qualcosa di specifico, a un comportamento specifico, a un dato specifico, misurabile, quindi per me la specificità è abbastanza importante. Deve essere pacato, sicuramente, il feedback, non deve essere un'urlata dall'altra parte del capannone, deve essere fatta col tono giusto. Io penso di avere un tono giusto, pagato e filibrato, ma questo me lo deve dire, deve dare lui Francesco, deve dare Francesco a me un feedback sui miei tip, ma soprattutto deve essere un momento costruttivo, deve essere un primo passo o uno dei passi per lo sviluppo della persona. Io so che nel momento in cui restituisco qualcosa a Francesco o a un apprendista, so già che quello che dirò sarà parte del suo processo di apprendimento. Già mi cambierà come lavorerà il minuto dopo e quindi è una forte responsabilità per un tutor quella di dare un feedback, perché dà una forma al lavoro della persona che lo sta ricevendo. Molto bene, molto bene. Direi che abbiamo aperto, diciamo, il concetto di feedback, di riscontro dal punto di vista di chi lo dà. Vediamo ora qual è la prospettiva, il punto di vista di chi invece lo ha ricevuto, questo feedback, questo riscontro sulle cose fatte. Com'è andata Francesco durante il percorso di apprendistato? Allora sicuramente ecco riprendo quello che ha detto Marco, cioè non è mai arrivato il momento, quella frase in cui si diceva in questo periodo bene, oppure nel complesso bene. Non perché magari non fosse così, però anche sentirselo dire a volte, no? Si rimane un po' col dubbio, cioè vabbè, ma bene perché? Oppure bene per chi? No? Non si sa mai questo sta andando bene a che cosa è dovuto? A noi che stiamo lavorando? Oppure al contesto in generale perché sta andando bene? Ecco, mette un po' in confusione. E invece devo dire che effettivamente quei riscontri che io penso fossero più utili erano proprio legati a ciò che veniva fatto, ciò che veniva detto, no? E quindi erano un po' specifici. un altro aspetto che secondo me era importante dei vari riscontri che mi ha dato Marco era che sicuramente erano sempre, no? Volti a si può fare meglio, però non veniva mai detto nello specifico. C'è sempre un po' quella sensazione, no? Un po' anche a scuola c'era quella sensazione è bravo ma non si applica, cioè sta facendo bene ma potrebbe fare di più e che effettivamente toglie un po' di motivazione, no? Se sto facendo bene, dimmi che sto facendo bene. Non c'è sempre bisogno di andare oltre, di fare sempre di più, di migliorare sempre. È ovvio che questi riscontri sono volti a migliorare. Perché? Perché mi stai gratificando, mi stai valorizzando qualcosa che ho fatto, qualcosa che ho detto. Però magari sottolinearlo, insomma, potrebbe a volte dare un po' fastidio, ecco. Forse sì, si valorizza, ma non troppo, perché si può fare sempre di più. Anche questo secondo me non è mai successo, avere un riscontro di questo genere. E io personalmente l'ho apprezzato. Non so se è un vantaggio o no, se si dovrebbe fare così o meno. Però ecco, secondo me anche questo fattore è importante. Cioè, un feedback che è un riscontro che sia positivo, è positivo in quel momento. Non per forza deve essere sì, ma devi migliorare. Sì, ma devi fare di più. Bene, bene, no? È importante anche contestualizzare, no? Questo tipo di attività e per come viene percepito, sia da chi, diciamo, da un riscontro, sia da parte di chi lo riceve. Anche perché io immagino, e qui mi rivolgo a Marco, non siano sempre tutte rose e fiori, no? Quindi non ci sono sempre solo riscontri positivi che si potrebbe fare anche un po' meglio. Immagino che ogni tanto qualcosa vada anche torto. Quindi chiederei a Marco se può darci un esempio di un feedback che ha dato all'apprendista e quali frasi ha utilizzato, per esempio. Proviamo a pungolarlo un po'. Proviamo. Sì, è l'opposto del sì, ma devi fare di più. Cioè, quando c'è un feedback positivo non diciamo sì, ma devi fare di più. Quando c'è un feedback negativo da dare e parto dalla fine, comunque lo chiudiamo sempre con un aspetto positivo, un po' per indolare la pillola, ma anche per non fare perdere la motivazione di cui abbiamo già parlato in un video precedente, no? Quindi sicuramente magari iniziare o finire un feedback negativo con qualcosa di positivo si sta. Quindi, Francesco, ho visto ottimo lavoro con il progetto di ieri, ottimo lavoro con il lavoro che hai fatto la settimana scorsa su quel cliente, ottimo lavoro ad aver aiutato quel collega che aveva un problema, ottimo lavoro ad essere arrivato in orario dopo che hai avuto quella difficoltà di trasporto, mi ricordo una volta. Quindi sì, sicuramente il feedback negativo, un po' perché l'ho letto da qualche parte, cerco sempre di iniziarlo con qualcosa di positivo e di terminarlo con qualcosa di positivo. E come dicevo prima, al di là di questi aspetti, cerchiamo sempre di andare nel dettaglio, quindi di andare nel quale è stato l'errore, ma più che puntualizzare l'errore, ma guarda, guarda che hai sbagliato qui, questa cosa non va fatta così. Più che fare quello è cercare di capire assieme all'apprendista qual è stata la causa e anche uno dei, questo tipo di attenzione è richiesta anche quando si lavora sui processi di qualità. C'è stato un errore, cos'è che ha causato l'errore, cos'è che ha causato quella causa, cos'è che ha causato la causa di quella causa, eccetera, fino ad andare sempre all'indietro. Ma c'è uno strumento che non è tarato, c'è un'istruzione che non è stata data in modo corretto a Francesco, quindi prima di tutto è un mea culpa anche l'errore che fa l'apprendista, perché vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nel processo. Ma nel momento in cui lo devo dire al ragazzo, a Francesco in questo caso, parto sempre, oltre che dal feedback positivo, anche dal cercare di capire assieme cosa è andato storto. E poi se c'è un errore che è stato effettivamente fatto dall'apprendista, perché per esempio era distratto, pensava ad altro, oppure ha sbagliato a utilizzare uno strumento, il calibro o quello che è, allora in quel caso glielo si fa notare, gli si danno dei suggerimenti su come potrebbe non fare quell'errore. Quindi magari si cerca di capire se il calibro è stato impugnato in modo sbagliato, oppure se c'è qualcos'altro. In un altro video abbiamo parlato di motivazione, quindi se alla base c'è qualche altro motivo. vero è che non possiamo stare tutto il tempo a cercare le cause recondite di un errore, di un'apprendista, anche perché il tempo è poco. Capisco che il tempo sia poco in tutte le organizzazioni. Dobbiamo capire dove fermarci. L'aspetto più efficiente che sono riuscito a trovare è capire assieme cosa è andato male, dargli gli strumenti immediati per evitare che ricapiti e fare in modo che la persona, il ragazzo non si demoramenti troppo. Quindi di nuovo finire sempre con un feedback positivo, con l'equivalente della pacca sulla spalla per riconoscere i lavori buoni che sono stati fatti, anche perché non sempre di nuovo vengono riconosciuti i lavori positivi. Il feedback è quasi sempre purtroppo negativo e non abbastanza positivo. Quindi anche un po' per bilanciare questo aspetto, anche in una serie di feedback negativo, ricordare quello che è stato fatto bene, secondo me è importante. Bene, e a questo punto anche qui mi corre l'obbligo di chiedere riscontro a Francesco su come ha reagito nel caso di un feedback negativo oppure critico, anche molto brevemente, ecco. sì, allora, non benissimo, cioè nel senso, sicuramente non è mai piacevole ricevere un riscontro su qualcosa di negativo che si è stato fatto. Però c'è anche da dire questo, cioè io ho apprezzato sempre l'impostazione di Marco di dare un piccolo cenno positivo, trattare poi quello che si è sbagliato e poi chiudere comunque sempre con qualcosa di positivo. Però ecco, non è tanto forse l'inizio e la chiusura, cioè è quello che sta nel centro, che sicuramente impatta di più, perché qualcuno sa che magari non ha fatto ciò che doveva, che ha sbagliato per colpa sua, per colpa di altri, per colpa della sfortuna, che dir si voglia. Però forse è stato anche il modo in cui veniva trattato questo riscontro negativo, cioè ma al di là di quello che è successo, cerchiamo di capire cosa possiamo fare per non farlo ricapitare, cioè che abbia sbagliato tu, che abbia sbagliato io o un altro ci interessa relativamente. Cerchiamo di capire però insieme cosa possiamo fare. E forse era anche questo approccio, cioè non ho mai avuto la soluzione da Marco. È sempre stato un, vabbè, ma tu come la vedi? Come lo faresti? Cosa diresti? Cosa chiederesti? Oppure in quel caso, no? Chiederesti aiuto a qualcun altro? Coinvolgeresti il collega o chi che sia? Quindi forse anche quello, no? Cioè il cercare di mettere la persona al primo posto, cioè dire guarda, dimmi tu, cosa ne pensi? Cosa faresti per migliorare o per evitare che succeda? E poi lo vediamo insieme. Forse anche questo l'ha aiutato. Bene, bene. Mi sembra che anche in questa risposta di Francesco sia emerso chiaramente un aspetto centrale. Percorsi di apprendistato duale sono percorsi di formazione e di lavoro. Di formazione sul lavoro e nel lavoro e quindi ci sta che anche lo stile di gestione del riscontro che si dà rispetto all'attività lavorativa debba essere improntata all'apprendimento. Quindi a creare le condizioni non tanto per dare le risposte quanto per fare in modo che l'apprendista alle risposte sia in grado, sia sempre più in grado di trovarle da solo rispetto a quanto è stato fatto e del riscontro che si è ottenuto. Quindi grazie ai nostri due ospiti, a Marco in veste di tutor, a Francesco in veste di apprendista. Questa era l'ultima delle puntate che riguardano le esperienze concrete nei percorsi di apprendistato duale. Grazie per l'attenzione. Si è parlato del feedback nei percorsi di apprendistato, ma sostanzialmente si chiude un ciclo di tre video che hanno messo in evidenza nel concreto quali sono, diciamo, le esperienze dirette da parte di due attori fondamentali in questo tipo di percorso. Per cui grazie a tutti per l'attenzione e ai prossimi contenuti. Grazie a tutti.